Ciao a tutti ragazzi Nonostante non abbiamo raggiunto i 100.000 like che vi avevo chiesto Oggi siamo qua in un nuovo tutorial Oggi vi insegnerò come mangiare il sushi Abbiamo ordinato questa tartare di salmone in un ristorante giapponese Vedete? Non me ne frego un cazzo di come si usano le bacchette Io voglio mangiare! È un po' difficile guardare la telecamera Poi pucciate qua E purtroppo per problemi di copyright non posso farvi vedere come si mette in bocca Questo pezzo di sushi Che può ricordare vagamente una ranetta Esatto Una volta che avete mangiato Oh ora sto mangiando Una volta che avete mangiato poi potete prendere la vostra forchetta Che è molto più comoda e vi fa prendere molti più pezzi come potete notare Grazie a tutti Sempre a 100.000 like faremo un nuovo video E se arriviamo a 150.000 mi piace Nel prossimo video verrà liberata l'identità della ragazza che si incazza sempre Grazie a tutti Grazie a tutti